Immerso in uno scenario naturalistico mozzafiato, Aololai, l'agriturismo palai, vi aspetta per offrirvi un'accoglienza del tutto speciale. I sapori più genuini della tradizione barbaricina incontrano i profumi della montagna e danno vita a piatti gustosi e prelibati. E per il massimo del relax, trascorrete le notti sotto il cielo di Barbagia. L'agriturismo palai offre camere confortevoli e accoglienti. Agriturismo palai, la Sardegna, abita qui.